Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sulla divisione dei polinomi che abbiamo cominciato nel video precedente parlando della regola di Ruffini. Con il termine regola di Ruffini si intende sostanzialmente una versione semplificata dell'algoritmo della divisione tra polinomi, quello per capirci che abbiamo visto nel video precedente, che però può essere utilizzata soltanto se il divisore è del tipo x più b, cioè può essere scritto nella forma x più un certo numero reale eventualmente negativo. Senza perdere altro tempo, per capire concretamente come utilizzare la regola negli esercizi, diamo subito un'occhiata ad un esempio e supponiamo che ci venga chiesto di svolgere la divisione tra il polinomio x alla terza meno 4x meno 2 e il polinomio x più 1. Prima di procedere notiamo immediatamente che il divisore x più 1 effettivamente è scritto in questa forma qui, cioè si presenta come x, a cui c'è sommato un certo numero reale, che nel nostro esempio è 1. Ne segue quindi che invece di utilizzare la divisione tra polinomi tradizionali, possiamo utilizzare la versione semplificata dell'algoritmo, cioè la regola di Ruffini. Per farlo dobbiamo innanzitutto costruirci lo schemino che vedete qui in basso a destra. Cerchiamo di capire com'è fatto. Qui in alto, vedete, sono stati ricopiati i coefficienti del dividendo, cioè i numeri che compaiono davanti alle potenze di x in questo polinomio. In particolare vedete l'1 che c'è qui sarebbe il coefficiente di x alla terza, lo 0 che c'è qui sarebbe, se volete, il coefficiente del termine di secondo grado di questo polinomio che come vedete non c'è e quindi proprio per segnalare che non c'è si mette qui uno 0. Poi abbiamo questo meno 4 che è il coefficiente del termine di primo grado e infine vedete c'è il meno 2 che viene messo dopo la riga verticale che sarebbe il termine noto del dividendo. A parentesi, se i termini del dividendo fossero disordinati, cioè se le potenze di x non fossero disposte come in questo esempio in ordine decrescente, prima di eseguire la divisione con Ruffini è necessario riordinarle in questo modo e solo successivamente si passa a disporre qui i coefficienti. In basso a sinistra invece si mette l'opposto del termine noto del divisore e quindi qui noi mettiamo meno 1 perché il nostro divisore ha come termine noto più 1 e dunque il suo opposto è meno 1. A questo punto per eseguire la divisione si procede così. L'uno che c'era qui si fa scendere gratis e lo si ricopia qui sotto. A questo punto si prende quest'uno e lo si moltiplica per il meno 1 e il risultato di questa operazione lo si mette qui. A questo punto si sommano questi due termini e si scrive qui in basso il risultato dell'operazione e poi sostanzialmente si ricomincia. Analogamente quindi alla prima mossa si prende il meno 1 che c'è qui e lo si moltiplica per il meno 1 che c'è qui e il risultato di questa operazione che naturalmente è più 1 lo scriviamo qui. A questo punto sommiamo questi due termini e il risultato dell'operazione che è meno 3 ce lo scriviamo qui in basso e di nuovo come prima prendiamo il meno 3 e lo moltiplichiamo per il meno 1 e il risultato dell'operazione ce lo scriviamo qui. A questo punto vedete siamo arrivati all'ultima colonna e dunque non resta che sommare questi due termini per concludere che qui dobbiamo mettere un 1. Ecco l'uno che ci è comparso qui cioè il numero che compare in questa posizione alla fine dell'algoritmo è il resto della divisione mentre i numeri che compaiono qui in basso sono i coefficienti del quoziente cioè i numeri che compaiono davanti alle potenze di x nel polinomio quoziente che avrà come grado naturalmente la differenza tra il grado del dividendo e il grado del divisore. Dunque nel nostro caso 3 meno 1 2 e di conseguenza il primo termine che otteniamo qui sarà il coefficiente di x quadro il secondo termine che otteniamo qui sarà il coefficiente della x mentre l'ultimo termine qui in basso a destra sarà il termine noto del nostro quoziente. A parentesi per controllare di aver svolto correttamente la divisione come sapete è poi sufficiente moltiplicare il divisore per il quoziente e aggiungere il resto e il risultato di questa operazione deve dare il dividendo. Se quindi non fosse verificata l'uguaglianza che vedete qui sulla destra allora significa che è stato commesso un errore da qualche parte ed è il caso di ricontrollare. Ora se confrontate la lunghezza dei calcoli che abbiamo svolto qui con quelli che abbiamo svolto nel video precedente dove parentesi avevamo risolto la stessa divisione utilizzando però l'algoritmo tradizionale è facile convincersi che questo nuovo metodo è non solo più corto ma anche semplice da utilizzare dunque vale sicuramente la pena quando possibile di sfruttarlo negli esercizi. Volevo poi farvi notare che in una divisione di questo tipo il resto o viene uguale a zero o comunque viene uguale a un numero quindi non dipende da x ed ecco perché l'ho indicato solamente con r e non con r di x come avevamo visto nel video precedente e il motivo è essenzialmente legato al fatto che se c'è un resto come ricorderete questo deve avere grado minore del divisore. Rappurato questo volevo poi dirvi che se il divisore fosse un binomio di primo grado del tipo ax più b cioè se davanti alla x ci fosse un coefficiente diverso da 1 la regola di Ruffini non può più essere utilizzata direttamente. In questo caso o si utilizza la divisione tra polinomi tradizionali oppure si può fare una furbata cioè è possibile ricondursi ad una nuova divisione che si può fare con Ruffini dividendo sia il dividendo che il divisore per a cioè per il numero che c'è davanti alla x. In questo caso la nuova divisione che si ottiene che avrà come divisore quello di prima diviso per a cioè x più b fratto a avrà lo stesso quoziente di quella di partenza cioè di quella che interessa a noi e avrà però il resto diviso per a e sarà quindi necessario alla fine se vogliamo recuperare il resto della divisione originale eseguire una moltiplicazione per a. Per capire che cosa intendo diamo subito un'occhiata a questo esempio in cui ci viene chiesto di dividere il polinomio 4x quadrato meno 6x più 8 per il polinomio 2x meno 4. Come vedete il divisore non è nella forma giusta per poter applicare direttamente Ruffini infatti non è del tipo x più un numero ma presenta invece un numero anche davanti alla x ed è quindi del tipo ax più b in cui il coefficiente a è diverso da 1. In questo caso ho due opzioni o faccio la divisione tradizionale che però come abbiamo capito è lunga e quindi se proprio non devo è meglio evitare oppure faccio la furbata di cui parlavamo poco fa. Cioè prendo sia il dividendo che il divisore e li divido entrambi per il numero che c'è davanti alla x nel divisore e quindi nel nostro esempio li divido entrambi per 2. Così facendo ottengo una nuova coppia di polinomi da dividere che sono precisamente quelli di prima divisi per 2 e ho però il vantaggio che posso svolgere la divisione con Ruffini e quindi determinare il quoziente e il resto è molto semplice. Vediamo rapidamente come tutto questo si può fare. Beh vedete come dicevamo prima qui sopra sono stati ricopiati i coefficienti del dividendo e il dividendo vedete è scritto in maniera tale da avere le potenze di x ordinate in ordine decrescente. Mentre il numero che compare qui è l'opposto del termine noto del divisore quindi qui c'era meno 2 dunque qui metto più 2. A questo punto come dicevamo prima il primo 2 scende gratis poi devo moltiplicare questi due e scrivere il risultato qui. A questo punto si sommano questo 4 e questo meno 3 e il risultato dell'operazione che è 1 lo si scrive qui sotto dopodiché si prende l'1 e lo si moltiplica per 2 e il risultato dell'operazione lo si scrive qui. Non ci resta quindi che sommare questo 4 e questo 2 per concludere che il resto della nostra divisione è 6 mentre i coefficienti del polinomio che fa da quoziente sono questi due qui. Visto che naturalmente il quoziente è di primo grado essendo il dividendo un polinomio di secondo grado e il divisore uno di primo grado questo 2 è allora il coefficiente della x mentre quest'uno è il termine noto. Ora come vedete ho indicato il quoziente e il resto rispettivamente con q asterisco e r asterisco per segnalare che non sono il quoziente e il resto della nostra divisione originale ma sono invece il quoziente e il resto della nuova divisione che abbiamo ottenuto a seguito della divisione per 2 dei nostri due polinomi. E quindi come facciamo a ricostruire resto e quoziente della divisione originale? Beh vedete il quoziente banalmente è lo stesso quindi posso subito concludere che q di x sarà 2x più 1 mentre il resto della divisione originale si trova moltiplicando il resto della nuova divisione per il coefficiente che c'è davanti alla x nel divisore dunque nel nostro caso per 2. Come vedete quindi anche in uno scenario in cui il divisore è di questa forma è comunque possibile sfruttare ruffini per trovare il quoziente e il resto solo che non lo si applica più direttamente ma bisogna fare una furbata di questo tipo. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato concluderemo il discorso sulla divisione dei polinomi nel prossimo video dove parleremo tra l'altro del teorema del resto e del teorema di ruffini che vi anticipo è una cosa diversa dalla regola di ruffini di cui abbiamo parlato qui. Come sempre se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su facebook ed instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.